Diamo quindi la parola a Nicola, a quale chiediamo come dovrebbero essere le amministrazioni 2.0, ma anche come dovrebbero o potrebbero essere i cittadini 2.0. Bella domanda. Allora, innanzitutto grazie. Allora, quando mi hanno proposto il titolo Cittadinanza 2.0, il rapporto tra cittadini e Stato e Mediato delle Tecnologie, io ho anche cercato un attimo di capire in che contesto andava a porsi il mio keynote e quindi essendo in un'area che parlava di trasparenza e open government, mi sono posto l'obiettivo di non parlare di open data, perché immagino che nel corso di questi giorni al forum PA l'argomento sarà ampiamente dibattuto e trattato. E quindi ho pensato di provare a fare un inquadramento un po' più generale dell'argomento, individuando quelle che secondo me sono quattro opportunità che ci sono da cogliere oggi nel rapporto tra cittadino e Stato, quando in questo rapporto introduciamo la tecnologia e ovviamente ci riferiamo in particolar modo alla tecnologia della rete, ci riferiamo in particolar modo a internet, a tutto ciò che ha a che fare con l'essere connessi. Ora, secondo me è importante fare una prima distinzione, e cioè distinguere la politica dall'amministrazione. la decisione su come debbano essere amministrati sulle scelte strategiche che riguardano i beni comuni e la gestione materiale di questi beni comuni. Ovviamente non vi dico nulla di nuovo se fate questo di mestiere. Quando noi parliamo di politica, secondo me, le opportunità che ci sono da cogliere sono essenzialmente due, e riguardano la formazione dell'opinione pubblica, da un lato, e la possibilità di introdurre in modo diffuso processi deliberativi. Quando parliamo di amministrazione, ovviamente da un lato parliamo di un tema che è molto dibattuto, che è l'accesso ai servizi pubblici tramite tecnologie digitali, quindi sarà un altro dei leitmotiv non solo di quest'anno, ormai sono anni che al forum PA si parla di questa cosa, e in modo, secondo me, un pochettino più lungimirante, di co-creazione dei servizi pubblici, cioè di creare il servizio pubblico insieme con il cittadino. Quello che un paio di anni fa, quando Cameron è diventato primo ministro in Inghilterra, c'è stato il momento del big society versus the big government, quindi la possibilità di costruire insieme con i cittadini. Allora, partiamo, quindi le quattro opportunità sono in queste quattro aree, secondo me, e partiamo dalla opinione pubblica. Ora, adesso dirò delle cose che sembrano banali, ma è che in realtà a volte gli stessi politici dimenticano. La prima è che, ovviamente, la democrazia è il governo del popolo sul popolo. La seconda è che il popolo esercita il proprio potere quando vota. La terza è che le elezioni fanno il compito delle opinioni, cioè io voto sulla base delle opinioni che ho, e quindi che il vero fondamento di ogni governo è l'opinione dei governati. Quindi alla base di una democrazia rappresentativa c'è l'opinione di chi viene governato. Questo non lo dico io, lo dice la dottrina, in particolar modo, tra i tanti, Giovanni Sartori, nel libro Democrazia che cos'è, che è uno dei classici sull'argomento, sicuramente racconta questo tipo di cose. Ora, l'opinione pubblica si forma in tre modi. Dall'alto, dal basso, e per appartenenza a gruppi di riferimento. Dall'alto, le elite politiche. Ovviamente, contestualizzando, ovviamente a ognuno gli tocca quello che... non dico si merita, ma insomma quello che gli tocca. Le elite economiche, anche qui, ahimè. Il sistema dei media, in particolar modo ovviamente dei media di massa, che sono ancora predominanti nella formazione dell'ominione pubblica rispetto ai social media, e gli opinion leader variamente configurati. Questo è il sistema che hanno in testa i politici normalmente. E infatti, quando accade l'incontrario, cioè quando l'opinione pubblica viene in qualche modo stimolata dal basso, cominciano a parlare di antipolitica. E quindi... scusate... di antipolitica. Quindi il bubbling up, il venire, la pancia, quella che viene chiamata la pancia, in modo anche un po' dispregiativo. Cioè, quindi, questo senso di malessere, che è politica, è fortemente politica. A me non piace Grillo, però Grillo, come il popolo viola, come gli indignati, come tutti questi movimenti, in qualche modo, di protesta, interpretano un bisogno delle persone ed esprimono delle opinioni. Poi si può dire che queste opinioni sono grezze esattamente quanto le opinioni, diciamo, di chi vota per un partito politico tradizionale. Però, anche questa è politica. Poi, ovviamente, c'è, importantissima, soprattutto in un paese come l'Italia, che ha una forte dominanza cattolica, l'appartenenza politica e l'appartenenza a gruppi, un sistema di valori che nasce dall'appartenenza a gruppi. Perché vi faccio questa lezioncina, ho ripetuto questa lezioncina? Perché, per quanto banale, questa lezioncina è strana, ma viene, in qualche modo, dimenticata quando si parla di coinvolgere le persone nei processi decisionali. Cioè, noi dimentichiamo una cosa che, invece, dobbiamo sempre, come dire, tenere a mente, molto bene, e che, come dice Sartori con una frase di quelle con cui lui è capace, la base di informazioni dei grandi pubblici è di una povertà scoraggiante e sbalorditiva. Cioè, noi abbiamo delle opinioni generalmente molto approssimative sui beni comuni, su tutto ciò che è pubblico. Ok? E quindi, ovviamente, questo influenza la nostra capacità di partecipare. Perché abbiamo un'opinione, abbiamo delle opinioni, abbiamo delle informazioni rozze e abbiamo delle opinioni grezze? per un motivo molto semplice, e cioè che imparare a informarsi è costoso, non in termini di soldi che devi investire per imparare a informarti, ma di tempo che devi impiegare, di fatica che devi fare, del fatto che c'è una soglia minima che devi raggiungere affinché le conoscenze che tu hai accumulato diventano produttive e ti permettono di fare qualcosa. Quindi non è la questione, come dire, e poi c'è un trade-off, se imparo una cosa non ne posso imparare un'altra. Perché la quantità, diciamo, noi siamo purtroppo o per fortuna, insomma, degli esseri finiti con una certa capacità di assorbire informazioni, una certa capacità di elaborazione di informazioni e dati. Allora, ci dobbiamo chiedere come la tecnologia possa aiutarci a superare questo limito intrinseco, cioè come possa aiutarci a imparare di più sul funzionamento dello Stato, imparare di più sul funzionamento della gestione dei beni comuni in modo da poter partecipare con maggiore efficacia, poter prendere delle decisioni più informate, quindi votare con maggiore consapevolezza e poi, in una fase diciamo più avanzata, anche partecipare a processi deliberativi con cognizione di causa. Ci sono degli esempi interessanti, perché questo non è un problema che riguarda solamente il rapporto tra Stato e cittadini, è un problema generale, cioè noi, in una società della conoscenza, abbiamo bisogno di apprendere sempre di più e abbiamo bisogno di apprendere una quantità di cose in campi diversi in modo molto veloce e molto efficiente. Ci sono due esempi che io vorrei citarvi per quanto riguarda l'apprendimento in aree che non attengono direttamente il rapporto tra cittadina e Stato. Uno è la Khan Academy. La Khan Academy è una cosa molto interessante. C'è questo signore, questo signor Khan, che era un analista finanziario che spiegava via telefono a un suo cugino, al cuginetto, gli spiegava la matematica. A un certo punto il cuginetto si incagliava, cioè non riusciva a capire alcune cose. Quindi, che cosa ha fatto Khan? Ha registrato un video della lezione, l'ha messo su YouTube e lui, senza pensarci, l'ha messo pubblico su YouTube e questa cosa è diventata una roba di enorme successo. Cioè, ci sono oggi la Khan Academy ha distribuito qualcosa come un milione e quattrocento mila lezioni, qualcosa di questo genere, e ha tre mila e cinquecento video didattici che coprono oggi più o meno tutto quanto quello che riguarda le materie della scuola primaria, fondamentalmente. Ma anche il come funziona lo Stato americano, come funziona il processo elettorale americano che ovviamente è molto complicato soprattutto per le elezioni del Presidente degli Stati Uniti. Quindi, il primo aspetto è che ci sono forme che abbassano la barriera di accesso all'informazione come può essere banalmente un video su internet, sembra sciocco, o comunque diciamo un processo che fa fortemente affidamento su una formazione online che quindi può essere usufruita dalle persone in modo autonomo secondo le proprie disponibilità di tempo e via di seguito. E questo è un esempio di grande successo oggi che viene adottato all'interno di alcune scuole perché alcuni maestri nella scuola americana stanno facendo un processo per cui hanno invertito fanno la lezione in video agli studenti a casa ognuno se la guarda sul proprio computer e in classe si fa il laboratorio quindi si fa la parte interattiva che ha senso perché? Perché se non ho capito questa me la guardo dieci volte e non ho il problema della pressione sociale nei confronti degli altri studenti che mi dicono sei stupido e via di seguito in classe faccio la cosa più viva faccio la cosa che poi molti studenti fanno a casa quando si incontrano e studiano insieme comunque il secondo esempio è Codecademy questo è un sito dove se tu non sai programmare vai qui sopra e impari a programmare come? con dei meccanismi di gioco loro hanno introdotto meccaniche di gioco nell'apprendimento della programmazione c'è una sfida parlare con le macchine è importante perché le macchine saranno sempre più presenti nella nostra vita imparare a programmare dovrebbe essere uno skill secondo me che ha senso trasferire agli studenti già nella scuola elementare come faccio io a rendere questa attività piacevole? metto dei premi faccio in modo che l'attività sia fatta insieme con gli altri ti do delle sfide ti permetto di far vedere agli altri quanto sei diventato bravo e compagnia bella quindi introduco le classiche meccaniche di gioco i livelli i premi i riconoscimenti le sfide e via di seguito all'interno di un processo didattico cose che si fanno anche nel mondo reale non necessariamente nel mondo dei bit quindi la prima opportunità nel rapporto tra tecnologia e nel rapporto tra stato e cittadino mediato dalla tecnologia dalla tecnologia di internet è la possibilità l'aumentare la possibilità di apprendere di far apprendere al cittadino come funziona lo stato perché questo gli permette di avere maggiore conoscenza opinioni più consapevole migliore capacità di scegliere i rappresentanti giusti cioè una democrazia rappresentativa di avere le persone giuste che prendono le decisioni corrette nella gestione della cosa pubblica ma anche l'opportunità di partecipare direttamente alla risoluzione dei problemi e qui entriamo nella seconda area cioè quella dei processi deliberativi ora è un dato di fatto che il nostro mondo sta diventando così complesso che è improbabile immaginare che la politica riesca a risolvere da solo i problemi anche quelli che si ritengono molto intelligenti da soli non ce la possono fare ora non è un caso che ci siano sempre più frequenti processi di consultazione processi di coinvolgimento attività in crowdsourcing e via di seguito questo governo sta per esempio facendo anche degli sforzi insomma rispetto a quelli che lo hanno preceduto sicuramente incomiabili tra consultazioni io in particolar modo sto partecipando alle consultazioni che riguardano il mondo delle start up che è un'area in cui io di cui io mi sto interessando molto come faccio a facilitare la partecipazione allora ancora una volta il gioco il gioco è una delle cose più coinvolgenti per le persone le meccaniche di gioco sono fatte per coinvolgere questo è un esempio cartaceo ma esiste anche la versione digitale di questa di questa meccanica cioè alla la città di San José il problema era ridurre il budget che è uno dei problemi che tanto hanno tutte le sicuramente tutti i comuni anche in Italia ridurre il budget come faccio a ridurre il budget costruisco un gioco da tavolo che possono utilizzare i cittadini che mi aiuta a prioritizzare a costruire una priorità di cose desiderabili per i cittadini non glielo faccio fare con un processo deliberativo in cui tutti si mettono in una sala poi facciamo tutta la descrizione bla 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 c'è una roba pallosa glielo faccio fare con un gioco tipo monopoli alla fine di questo giro qui c'è tutto un meccanismo tutto un sistema di contrattazione ottengo una lista di priorità per cui esce fuori che è preferibile mettere i soldi nella manutenzione stratale e togliere qualcuno dal fire department quindi dai pompieri che possiamo fare a meno degli elicotteri per spegnere il fuoco e via di seguito quest'anno poi vedremo negli anni successivi cioè mettiamo in una lista di priorità secondo quelle che sono le priorità dei cittadini come lo faccio? lo faccio con un meccanismo in cui il cittadino gli tolgo completamente la barriera a partecipare esempi di questo genere su più larga scala può essere questo di urgent evoke c'è un istituto americano che si chiama institute for the future questo è un gioco di ruolo molto interessante in cui si gioca a risolvere i problemi del mondo quindi i problemi del mondo sono l'energia la sanità ci sono una serie di grandi di grandi temi come faccio io a raccogliere quel poco che ognuno di noi sa e che io poi posso mettere insieme in un sistema per avere una risposta sensata per esempio con delle sfide di questo genere in cui ci sono delle missioni da compiere e ci sono delle soluzioni da trovare a dei problemi alcune decine o centine questo è il secondo il primo si chiamava Superstruct insomma alcune centinaia di migliaia di persone che partecipano a queste sperimentazioni e che danno delle risposte perlomeno ricche ricche di varianti ricche di opzioni quindi non una risposta che nasce dalla negoziazione di interessi di pochi ma delle risposte che nascono dal mettere a sistema la conoscenza di molti e c'è un mondo da andare ad esplorare se voi pensate solamente alla quantità di tempo che le persone spendono giocando online non è male il gioco il gioco fondamentalmente significa risolvere i problemi significa risolvere i problemi allena la capacità di risolvere i problemi i forti giocatori di World of Warcraft sono persone che generalmente riescono a risolvere i problemi più velocemente e più efficacemente di chi non ha mai giocato a un videogioco qui c'è un mondo da esplorare se noi pensiamo che un gioco come questo che attira milioni di persone a giocare contemporaneamente Cityville Farmville qualsiasi cosa ville della zinga c'ha decine di milioni di giocatori noi possiamo costruirlo in modo tale che questo gioco ci aiuti a recuperare informazioni a recuperare risposte a far partecipare i cittadini come se fosse un grande gioco di simulazione questa simulazione ci può fornire informazioni su dove andare quindi la seconda opportunità è abbassare la soglia di accesso ai processi deliberativi renderla rendere questa cosa facile non una roba pallosa impegnativa da dibattito pubblico nella sala consigliare l'accesso ai servizi pubblici io più che parlarvi dell'importanza dell'accesso ai servizi pubblici via web bla 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 che tanto è una roba che tutti sanno e che ce l'avrete come martello sulla testa tutti i santi giorni vorrei mettere in evidenza una cosa e cioè il fatto che la pubblica amministrazione ragiona ancora in termini di web quando noi siamo in un'era post pc cioè si ragiona ancora nel fare i siti web della pubblica amministrazione quando la gente sta abbandonando il pc e usa la rete da mobile da telefonino da tablet dal media center attaccato alla televisione dalla console di gioco ci sono più console di gioco che computer nelle case delle persone il web non è questo il web è tutto questo quindi qui c'è un'area problematica enorme e cioè che mentre voi pensate a come rendere compatibile il vostro sito con la legge stanca che è una legge pessima dal mio punto di vista per come è strutturata per lo meno le mie poche esperienze che ho avuto nel fare cose nell'ambito della pubblica amministrazione quando c'era il problema dell'accessibilità diventava una sorta di totem su cui si poteva fare tutto sostanzialmente giustificava qualsiasi nefandezza ora questa cosa è importante perché allora la gente si sta spostando qui la pubblica amministrazione continua a fare questi anzi secondo me continua a ragionare come se ci avesse ancora il monitor no quello a cristalli liquidi quello i fornitori della pubblica amministrazione ok tutti questi signori che sono qui dentro con gli stand oggi ok ora purtroppo è un dato di fatto non sto dicendo non voglio non voglio sparare non voglio parlare male però è un dato di fatto i siti della pubblica amministrazione sono ampiamente insufficienti ampiamente inadeguati i fornitori che fanno le interfacce verso i cittadini sono dei system integrator sono bravi a fare i sistemi non ne sanno nulla di come si fa un sito nulla inventano inventano totalmente però secondo me qui c'è una grande opportunità e cioè noi oggi andiamo verso il cloud computing quindi oggi noi avremo una grandissima attenzione nel trasformare la elite nella pubblica amministrazione in cloud adesso è un'altra grande parola chiave insieme a smart city sono le due cose su cui come dire la bavetta la bocca e già li vedono tutti con la bavetta la bocca dobbiamo fare tutto il cloud dobbiamo fare tutto smart adesso tutti i servizi sono diventati smart tutto ciò che viene venduto ad un comune è smart qualcosa il cloud computing che cosa significa? significa che c'è la possibilità per come è la filosofia del cloud computing la possibilità di fare infrastrutture piattaforme e servizi ed erogarli e software scusate erogarli come servizi questo che cosa significa? occupatevi di fare le API e non di fare la parte verso il cliente finale verso il consumatore occupatevi di fare il motore ma fregatevene della carrozzeria e fregatevene del sedile su cui si deve sedere la persona la pubblica amministrazione e i fornitori della pubblica amministrazione possono fare bene la macchina la cosa che fa girare le cose ma le interfacce sono troppe per essere gestite con i processi con cui normalmente vengono gestiti gli appalti in questo settore quindi back end da un lato il front end lasciatelo fare ai cittadini anzi lasciatelo fare a un ecosistema ma cerchiamo di nutrire un ecosistema di piccole aziende di start up che sono in grado di utilizzare i servizi erogati dalla pubblica amministrazione per costruire servizi verso il cittadino e guardate che se voi andate in posti più maturi San Francisco è stato uno dei primi ad avere il portale dei dati aperti e qui questo non vale come promessa che non avrei parlato di open data è stato uno dei primi a fare il portale degli open data e la quantità di applicazioni mobile che ci sono qua sopra è proporzionalmente estremamente rilevante rispetto al totale vuol dire che la prima cosa a cui hanno pensato i developer della città di San Francisco come loro prima esigenza era fantastico non prendiamo gli open data prendiamo l'accesso in tempo reale agli orari di muni del sistema dei trasporti e facciamo l'app per iPhone l'app per Android l'app per Windows l'app per Symbian l'app per Bada lo facciamo su SMS lo facciamo su web mobile lo facciamo come vi pare una pubblica amministrazione non sarebbe mai in grado di gestire questa quantità di interfacce diverse con cui presentare lo stesso servizio e la stessa informazione piccoli gruppi di cittadini sì piccoli aziende sì piccole start up assolutamente sì c'è un sito interessante si chiama Every Block che prende tutti i dati che vengono erogati dalle città e costruisce dei siti micro informativi su un singolo blocco cioè su un singolo isolato lo fa quindi è una informazione ricca è un'impresa editoriale che nasce sui dati e sui servizi che vengono messi a disposizione dalle città negli Stati Uniti quindi la terza opportunità è quella di sviluppare un ecosistema di applicazioni per accedere ai sistemi della pubblica amministrazione significa alimentare l'ecosistema non significa fare i pezzi dell'ecosistema uno per uno appaltandoli uno per uno quarta opportunità è la co-creazione dei servizi pubblici alcuni servizi funzionano solo se sono co-creati co-prodotti insieme con il cittadino qual è un servizio che funziona solo se è co-prodotto insieme con i cittadini? la raccolta differenziata se i cittadini non fanno la raccolta differenziata potete mettere tutti i bidoni che volete non esiste la raccolta differenziata non si può fare e io lo prendo sempre come esempio perché è interessante cioè questa è una roba che prevede tutta una serie di attività in capo al cittadino per funzionare innanzitutto il know-how ragazzi è un casino capire dove si differenzia la roba cioè è una roba amicidiale se voi provate a viaggiare cioè io abito a Roma ho i suoceri in Trentino e i genitori in Campania in una delle poche zone nel Serenitano dove si fa la raccolta differenziata e secondo voi vengono le stesse regole su come si differenziano le cose? se tu vai sulla neve un attimo in Alto Adige non ne parliamo proprio quindi ogni volta devi rimparare e poi ci sono i dubbi amletici la busta del latte con il tappo di plastica il tappo di plastica lo devo smontare e via di seguito no? quindi c'è un problema di know-how ritorniamo al discorso di prima non stiamo facendo i grandi sistemi devo spiegare a questi signori come si cioè io l'ho fatto facciamo la festa della famiglia a scuola con le mie figlie e il tema è l'ecologia e noi abbiamo fatto abbiamo cercato di capire come si differenzia a Roma dove si butta guardate che ci abbiamo messo due giorni con mia moglie a capire a recuperare tutte le informazioni qualsiasi cosa che richieda due giorni per capire come si fa una cosa banale non può funzionare e poi ci sono questi esempi molto divertenti molto carini questo è Recycle Bank questa è una start up fa soldi facendo premi fidelizzazione per la raccolta differenziata fai la raccolta punti se differenzi la monnezza come quella del supermercato questa non è una ONG non è una COP non è una cosa senza fini di lucro questa è una società con fini di lucro che ha l'obiettivo di quotarsi in borsa perché quotarsi in borsa è l'unico modo per essere rilevante fa parte della loro strategia di creare un impatto positivo è quotarsi in borsa e dimostrare che si può fare qualcosa di positivo guadagnandoci dei soldi miracolo città di Philadelphia la città di Philadelphia allora quindi abbiamo uno strato che semplicemente diciamo questi adesso raccolgono qualcosa come 3 milioni di utenti tra America e Inghilterra c'è uno strato in cui loro hanno come dire incentivano l'adozione di comportamenti di comportamenti virtuosi e poi c'è proprio la cosa che fanno insieme con i comuni ovviamente questa è quella porta a porta no? bidoncino c'è il codice RFID sul bidoncino quando il Neturbino va a prendere il bidoncino scansiona il codice RFID e ti dai punti i premi sono offerti dalle aziende che inquilano non fa una piega quindi questo è un meccanismo premiante che agevola il coinvolgimento di cittadini co-creazione dei servizi pubblici noi andremo sempre di più verso la co-creazione dei servizi pubblici su questo non ci sono dubbi perché non ci possiamo permettere uno Stato che non collabora insieme con il cittadino non ce lo possiamo più permettere da mo' che non ce lo possiamo più permettere da parecchio tempo al netto dei 60, 70, 80 miliardi di corruzione ogni anno al netto di tutti gli sprechi bla 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 eccetera comunque non siamo in un contesto in cui per una serie di motivi ci possiamo permettere uno Stato che come dire non lavora non è come dire in cui il cittadino non è più partecipe delle cose dello Stato ok forse sarà utopico però secondo me è così ora in tutti gli esempi che abbiamo visto quindi quattro aree di opportunità da cogliere ci sono tre tendenze che abbiamo individuato la prima tendenza crowd sourcing quella che nel mondo della rete nel mondo web si chiama crowd sourcing l'intelligenza collettiva cioè costruire dei meccanismi che mi permettono di far fare alle persone delle cose piccole ma significative e premiarli per quelle cose piccole che fanno raccogliere informazioni piccole far leva su quelle cose che le persone sanno per ottenere risposte globali questo è la prima tendenza la seconda tendenza è l'ubiquitous computing se noi vogliamo accorciare la distanza che c'è tra cittadino e stato e tra cittadino e politica quindi tra cittadino ed amministrazione e tra cittadino e politica dobbiamo entrare nella tasca del cittadino questa volta non per tirargli fuori l'ennesima addizionale ma per fare in modo che quello che noi abbiamo da dargli sta dentro al device che lui usa tutti i giorni e che in questo momento è in carica sul telefono il tablet la console di casa e via di seguito quindi è inutile pensare servizi che funzionano solamente sul computer la terza cosa è la gamification quella che oggi si chiama nel marketing questa oggi è una parola chiave fondamentale engagement e gamification coinvolgimento dei consumatori e tecniche per aumentare il coinvolgimento dei consumatori coinvolgimento dei cittadini le stesse tecniche che vengono utilizzate per aumentare il coinvolgimento dei consumatori possono tranquillamente essere usate per aumentare il coinvolgimento dei cittadini e lo abbiamo visto la raccolta punti che è una cosa tipica del retail della grande distribuzione è una cosa che noi possiamo utilizzare per incentivare la raccolta diciamo l'adozione di comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata questa cosa ha due requisiti secondo me il primo è che il cittadino è un amico e ovviamente viceversa perché purtroppo oggi la distanza ancora c'è la pubblica amministrazione è il nemico oggi quando parliamo di pubblica amministrazione parliamo di equitalia parliamo di cose ogni volta sgradevoli spiacevoli quando parliamo di politica idem con patate invece no c'è bisogno di un cambio che è un cambio di formamentis e questa cosa si può fare perché ci sono comuni virtuosi in cui questa cosa succede io penso lo so è vero magari sono spesso comuni piccoli come Capannori questo comune nell'ucchese che sembra una specie di Eden diciamo dell'amministrazione pubblica la seconda cosa è che e questo è un tema ricorrente è che ovviamente il rapporto fiduciario non può che basarsi su un incremento della trasparenza non posso chiedere alle persone di partecipare se non sono disponibile ad essere trasparente ispezionabile nei loro confronti e io sono convinto che anche questa cosa ci si arriva perché devo dire a dispetto io ci si arriva un po' per esigenza ci si arriverà innanzitutto per esigenza perché è necessario fare questo ma poi sarà un meccanismo virtuoso come tutti i meccanismi come tutti i cambiamenti che incidono sulle grandi organizzazioni ci si arriva in un momento di crisi ma poi vengono assorbiti in modo virtuoso all'interno dell'organizzazione ora io ho mantenuto la mia promessa di non parlare di open data se non molto marginalmente e ho cercato di come dire costruire un minimo di percorso un minimo di percorso che ci racconta che come quali sono quali possono essere le opportunità da cogliere nei rapporti tra Stato e tecnologia tra Stato e cittadino quando ho delle tecnologie abilitanti da utilizzare grazie grazie Nicola soprattutto anche per la puntualità rispetto dei tempi ora lasciamo la parola alle domande in sala è qui è qui è qui è qui è qui è qui sì Alberto Bitonti ricercatore insomma su questi temi volevo chiedere qualcosa sulla seconda opportunità cioè sui processi deliberativi mi interessava capire da una parte quali sono i limiti di questi processi nel senso che è vero che per esempio lei faceva l'esempio l'elicottero del fuoco a volte non tutto può essere lasciato alla democrazia e quello è sempre una delle critiche che viene fatta alla deliberazione cioè che spesso c'è una parte di democrazia molto di pancia che non può prendere in considerazione una serie di elementi insomma che la politica invece deve affrontare più responsabilmente e poi se funziona questa gamification proprio sulla deliberazione cioè nelle esperienze che si sono fatte ci sono beh allora la gamification funziona ci sono pochissimi esempi sul digitale ce ne sono molti di più sull'analogico tieni conto che meccanismi di introduzione di meccaniche di gioco cioè l'introduzione della meccanica di gioco per esempio è una roba che viene utilizzata moltissimo in tutto il mondo della cooperazione cioè il mondo della cooperazione allo sviluppo fa moltissimo leva su questo tipo di meccaniche perché ovviamente è spessissimo a che fare con popolazioni non alfabetizzate in contesti dove è difficile capire addirittura qual è il problema da andare a risolvere quali sono le meccaniche sociali che ci sono all'interno dei gruppi eccetera e loro utilizzano molto queste meccaniche quindi la risposta è la risposta a sé se le meccaniche di gioco funzionano per coinvolgere i cittadini anche nei processi di deliberazione è sì ci sono ancora pochi non sappiamo fin dove ci possiamo spingere sicuramente ne sappiamo pochissimo ancora di quello che può accadere online perché ci sono ancora di meno esempi però le meccaniche di gioco tu non pensare quando diciamo meccaniche di gioco non pensare a giocare cioè il programma mille miglia che è una roba seria ha delle meccaniche di gioco perché già introdurre i livelli in un programma di fidelizzazione significa introdurre delle meccaniche di gioco quindi ci sono i punteggi il punteggio è una meccanica di gioco i piccoli riconoscimenti sono i boys i militari tutti quei badge che ci hanno sopra i badge adesso si chiamano badge nei giochi tutti quei riconoscimenti quella è una meccanica di gioco anche quella è una meccanica di gioco ti dà lo status di quella persona a cosa ha partecipato a cosa ha fatto di cosa può freggiarsi quindi funzionano in contesti serissimi ovviamente è un mondo da esplorare bisogna capire un attimo dove andiamo però c'è un'enorme sfida sicuramente che è quella noi abbiamo problemi da risolvere sempre più complessi quindi non possiamo affidarci a meccanismi di risoluzione dei problemi tradizionali ci dobbiamo inventare nuovi modi di risolvere problemi perché sono problemi che non si sono mai presentati nella storia della nostra civiltà e che si presentano con una velocità che non ci consente di aspettare fondamentalmente perché l'effetto che producono alcuni fenomeni è troppo veloce per aspettare anche solo di rilevare il problema quindi tutte queste meccaniche possono essere utilizzate in questi contesti sono Beatrice Costa lavoro per Action Aid una ONG di cui anche menzionato ero interessata a sapere un po' di più quando lei come dire poneva un po' la questione diciamo del pubblico verso il privato e quindi se lei intravede rispetto alle start up rispetto alle aziende di ICT una nuova collaborazione una nuova partnership nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato secondo lei cosa dovrebbe cambiare gli appalti cosa dovrebbero cambiare rispetto a questa nuova ipotesi allora io lo auspico per due motivi le start up allora qui entriamo in un argomento diciamo molto ampio allora due cose sulle start up velocemente le start up quindi le nuove aziende sono l'unico modo per creare occupazione quindi hanno un ruolo fondamentale nella hanno un ruolo fondamentale nell'economia di un qualsiasi paese sono il modo con cui si creano nuovi posti di lavoro se tutti i settori tradizionali perdono posti di lavoro gli unici modi in cui si creano posti di lavoro sono le nuove aziende le start up sono anche l'unico modo per fare innovazione vera perché innovazione è un termine molto ampio tutti fanno innovazione non c'è una sola azienda che non dica che non fa cose innovative anche quelle che fanno le cose più bieghe dicono che fanno cose innovative e in un certo senso è vero perché esistono innovazioni incrementali esiste un modo diverso di fare le cose da un giorno all'altro e poi esistono le innovazioni più radicali le innovazioni radicali non vengono mai prodotte dalle istituzioni vengono prodotte dai soggetti nuovi da quegli soggetti che entrano quindi il ruolo delle start up nel rapporto con la pubblica amministrazione è quella di produrre l'innovazione nella pubblica amministrazione che la pubblica amministrazione da sola non può produrre e che non gli possono produrre neanche i vendor che gli danno tecnologia adesso perché le IBM IMSI Square Vodafone Telecom quello che volete tanto qui c'è una rappresentanza più o meno di tutto non sono aziende che producono innovazioni disruptive che fanno cose nuove sono aziende che devono ripetere che devono fatturare che hanno un modello di business e lo devono far crescere introdurre innovazione per queste aziende è sempre pericoloso innovazione che cambia il modello di business possono introdurre un'innovazione di prodotto una cosa che ieri ti vendevo come oggi te la vendo come smart cities ieri si chiamava non mi ricordo qual era la parola chiave diciamo di due anni fa diciamo sull'argomento pubblica amministrazione cittadina digit PA che ne so qualcosa di questo genere ma fondamentalmente se vai poi a guardare dentro non stiamo parlando di cambi di paradigma ok quindi il rapporto tra pubblico e privato serve a questo serve intanzitutto lo Stato ha un'enorme quantità di informazioni e produce un'enorme quantità di ricchezza tappata dentro e irraggiungibile quindi questa ricchezza va aperta e questo è quello che dicono tutti quelli che si occupano di open data a questo punto che cosa ci faccio con questa ricchezza i soggetti migliori secondo me per utilizzare questa ricchezza e per valorizzarla e per farla crescere sono le start up sono le aziende innovative sono le piccole imprese sono anche i singoli cittadini perché per un singolo cittadino può aver senso fare il servizio per Symbian modello vecchio che utilizzeranno mille persone in una città ha un senso perché serve a lui risolve un problema lo fa sentire figo all'interno della sua comunità di appartenenza per una pubblica amministrazione un sistema integrato no perché quanti soldi ci vuoi mettere là sopra per fare quel servizio che serve solo mille persone però è alimentando questo ecosistema di piccole iniziative che cresce l'innovazione ti faccio un'ultimissima cosa poi quanto tempo abbiamo ancora? ok un'ultimissima cosa nella Silicon Valley oggi ci sono delle strutture gli acceleratori che incubano nulla di nuovo cioè per carità gli acceleratori c'erano anche durante la mia economia ma insomma che incubano in modo sistematico batterie di aziende le allevano come se fossero gli allevamenti allevamenti proprio quindi non è che se ne fanno 10 no se ne fanno 500 600 700 perché non è solamente un problema di fare le start up per farle diventare aziende perché in questo modo io finanzio innovazione lì dentro non ci sono solo aziende ci sono anche prodotti che possono essere acquisiti quindi iniziative che non avranno mai la dignità di azienda ma che possono essere interessanti per Google Facebook e compagnia bella per produrre innovazione e sono le grandi aziende che dicono noi al nostro interno non riusciamo a fare questo tipo di innovazione è meglio che mettiamo i soldi in questo magma in questa come dire cosa che ribollisce perché ogni tanto esce fuori qualcosa di estremamente interessante e ci costa di meno farlo così che non provare a farlo dentro casa è la stessa è la stessa meccanica l'innovazione non avviene in contesti istituzionalizzati perché l'innovazione è un atto di ribellione di discontinuità e cosa c'è di più continuo di un'istituzione nulla grazie a Nicola Mattina grazie a tutti i presenti vi salutiamo gli appuntamenti continuano già fra dieci minuti comincia il prossimo keynote chi vuole rimanere è benvenuto altrimenti alla prossima occasione grazie 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 grazie